di oggi a nord est in Friuli Venezia Giulia non si potrà uscire la sera dopo le ventidue le scuole superiori dovranno fare didattica a distanza al cento per cento i mezzi del trasporto pubblico locale potranno riempirsi solo a metà della capienza e si dovrà rinunciare a visitare mostre entrare in un museo nei giorni festivi e prefestivi in un centro commerciale contenuti quelli del nuovo dpcm firmato nella notte dal premier Conte che hanno lasciato Massimiliano Federiga molto perplesso oltre ai ristori già previsti si chiede che le categorie penalizzate dal provvedimento siano esentate dal versamento delle imposte dovute sia per il 2020 che per il 2021 grande dispiacere e forte senso di rispetto istituzionale ma al contempo dunque la necessità di seguire da vicino le vicende legate all'emergenza epidemiologica in un momento cruciale della vita della regione sono i sentimenti di Massimiliano Federiga espressi per la sua impossibilità a partecipare questa mattina alla cerimonia in programma re di Puglia la presidenza e la presenza del presidente del senato Maria Elisabetta Alberti Casellati in occasione della ricorrenza del 4 novembre impegni concomitanti legati all'emergenza epidemiologica in corso mi impediscono con grande ramarico di essere presente un evento così denso di tanti significati la regione terra di confine scenario in passato di indimenticati eventi bellici a cuore le ricorrenze come quella odierna che si svolge in un luogo diventato simbolo e che in quest'anno difficile assume un valore ancora più importante conclude lo stesso Federiga cronaca incidente sul lavoro nel tardo pomeriggio di ieri in un cantiere dell'istituto d'arte Max Fabiani in piazza medaglie d'oro a Gorizia poco prima delle 18 un operaio è caduto dall'impalcatura eretta tutto attorno all'edificio scolastico per realizzare i lavori di efficientamento energetico e di adeguamento alle normative antisismiche l'allarme è stato dato da un altro operaio che ha visto il collega a terra dolorante nell'immediato sono giunte sul posto due pattuglie della squadra volante della polizia di stato i vigili del fuoco con una squadra composta da cinque pompieri più funzionari e sanitari del 118 la caduta si è verificata internamente all'esterno quindi non era visibile alcunché da quanto è stato possibile ricostruire l'uomo riportato ferite molto gravi in un primo momento è stato trasportato al pronto soccorso del san giovanni di dio poi trattandosi di un trauma cramico i sanitari hanno optato per il suo trasferimento all'ospedale di cattinara trieste dove risulta essere ricorverato in terapia intensiva la prognosi è riservata sei clandestini loro passeur hanno fatto perdere le loro tracce nelle vigne tra cormons e san giovanni al natisone per quanto riguarda un mezzo sul quale erano a bordo che ha causato un incidente con altre due vetture e sulla strada regionale cinquantasei il fatto si è verificato poche centinaia di metri dopo che la vettura una citron in c4 picasso e sette posti non si era fermata alla della polizia poco fuori dell'abitato di cormons in veneto i vigili del fuoco sono costretti a pagare di tasca propria il tampone se vogliono essere monitorati per infezione da covid-19 la denuncia pesante del sindacato usb dei vigili del fuoco che ha proclamato lo stato di agitazione regionale con tentativo di conciliazione 9 novembre ma con intenzione di organizzare una giornata di sciopero un gruppo di negazionisti 30 40 persone erano fra i manifestanti di rialto si sarebbe cioè inserito tra coloro che avevano intenzione di protestare contro le restrizioni imposte per il covid tenendo le mascherine indossate striscioni cartelli cori l'arrivo a caffarsetti vari rappresentanti delle attività produttive in municipio per un presidio che comunque non sarebbe stato autorizzato preventivamente dalla polizia fra loro i negazionisti che dopo aver tolto la mascherina l'hanno fatta roteare in aria in una maniera che ricordava le sciarpate agli stadi degli anni 80 continuano i controlli da parte delle forze dell'ordine per garantire il rispetto delle normative anti covid-19 a trieste nella giornata di ieri la squadra volante del commissariato di Duino Aurisina ha denunciato un cittadino di origine kosovara nato nel 1997 per essere stato trovato all'esterno dello stello scout a prosecco struttura dove stava trascorrendo la quarantena stessa sorte anche per due cittadini di nazionalità pakistana che come giovane kosovaro sono stati trovati al di fuori della struttura di campo sacro un comunicato della triestina calcio che in seguito a un tampone effettuato è stata riscontrata la positività al coronavirus del calciatore Gianluca Litteri il giocatore asintomatico è stato posto in isolamento come indicato dal protocollo della figici il gruppo squadra sosterà oggi un nuovo giro di tamponi in aggiunta a quello già normalmente previsto per la giornata di domani 48 ore prima della partita di sabato con la speranza di non dover far fronte a nuove ulteriori positività in attesa dei test ad effettuare e dei relativi esiti non potrà essere svolta la seduta di allenamento programmata per oggi sul friuli venezia giulia sulla zona montana coperto con possibilità di qualche locale debole pioggia più probabile sole alpi giulie su pieno recosta nuvoloso con possibili nebbie verso sera sulla costa e sulle zone orientali in giornata bora moderata inserata sulla costa potrebbe essere anche sostenuta per quanto riguarda invece la giornata di domani al mattino c'è la prevalenza nuvoloso del pomeriggio variabilità con schiarite sempre più ampie bora moderata in pianura tratti sostenuta sulla costa temperature minime in pianura fra 9 e 12 massime fra 16 e 18 gradi sulla costa minima fra 11 e 14 le massime fra 15 e 17 gradi centigradi passiamo al veneto sulla pianura alternanza di nuvolosità variabile rasserenamenti sui monti cielo nuvoloso domani sulla pianura fino al mattino alternanza di nuvole rasserenamenti dal pomeriggio nuvolosità in diminuzione fino a cielo anche sereno poco nuvoloso specie di sera sui monti nella prima metà di giornata poco parzialmente nuvoloso dal pomeriggio sereno o poco nuvoloso temperature rispetto alla giornata alle giornate precedenti sulla pianura fino al mattino avremo andamento irregolare con variazioni in prevalenza leggere moderate e di sera saranno più basse anche di molto con minime nelle ultime ore in montagna in calo anche sensibile eccetto lievi aumenti diurni nelle valli previsioni a cura di arpa fvg meteo di arpa vagenzia regionale per la prevenzione protezione ambientale del veneto per il momento dal nord est e tutto appuntamento alla prossima edizione grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti